ciao io sono antonio e oggi sono qui per aiutarti a creare il tuo business perfetto a partire da questo video inizieremo una sequenza di informazioni quindi con attraverso video messaggi immagini che vi permetteranno di scoprire come creare la vostra attività perfetta come piace a voi e soprattutto renderla totalmente particolare automatizzata da rendervi felici perché ciò che voi non sapete è che creare un business significa creare qualcosa di bello e di importante è come avere un figlio e creare qualcosa che vi cambierà la vita sì vi cambierà la vita perché molto spesso la gente pensa che creare un business è semplicemente un qualcosa che sia affine ai soldi al guadagno quando è verità se voi parlate con i più grandi imprenditori o comunque se sentite parlare i messaggi ai più grandi imprenditori vi accorgerete che loro non parlano mai di valore economico ma parlo di valore emotivo sì perché creare un business significa lavorare sul proprio sulla propria emotività e sulla propria persona molte cose che la gente non sa non è che creare un business significa semplicemente aprire le porte arredare gli interni e comprare i prodotti ma in realtà è totalmente un viaggio verso di te verso il tuo interno verso il più profondo dove vuoi scoprire e dove andrai a scoprire quello che significa realizzare un sogno oppure realizzare un'idea e allora dato che iniziamo con questo sviluppo quello che sarà la crescita la tua crescita voglio darti alcune dritte che ti aiuteranno a sviluppare la tua attività o se hai già un'attività a renderla migliore potendo studiare quello che serve per creare un'attività e un'azienda buona che ti faccia star bene che ti dia emozioni e che ti dia guadagno partiamo con la prima domanda la prima domanda riguarda un viaggio per te creare una bussola cioè scegliere dove vuoi essere chi vuoi essere nel futuro non si parla di un futuro lontano ma si parla da qui a cinque mesi da qui a un anno da qui a cinque anni quindi definire le tre prospettive di te per capire dove vuoi arrivare e chi vuoi essere e in quale forma fisica vuoi essere quanto vuoi guadagnare cosa vuoi attorno a te questa domanda ti aiuterà a scoprire chi ti serve cosa ti serve e come arrivare e quali sono le skill le capacità che ti servono per arrivare a essere la persona che desideri essere per poter essere il businessman o comunque l'imprenditore che serve per quell'attività la seconda domanda che ti voglio porre è molto semplice e definisce qual è il contributo che vuoi dare alla comunità sì si parla proprio di contributo perché creare un'attività creare un business significa contribuire alla società anche perché non pensare di creare un business non avendo altre persone perché qualcuno dovrà pur comprare i tuoi prodotti e i tuoi servizi e quindi qual è il contributo che ti aiuterà a realizzare il tuo sogno scopri il regalo che vuoi fare al mondo scopri cosa vuoi fare scopri come lo vuoi fare è così che poter realizzare il business perfetto il business perfetto per te la terza domanda che ti voglio porre è molto semplice però è molto introspettiva quanto sei disposto a dare di te stesso no no non rispondermi tutto perché so benissimo che non sarà tutto so benissimo non sarà tutto perché ho parlato con diversi imprenditori ho diversi imprenditori che sono miei clienti e quando gli dico ci vediamo domani mattina alle 7 mi dicono cosa così presto sì perché a volte diventare imprenditore significa alzarti presto e cambiare le regole perché se vuoi un risultato diverso non puoi fare altro che fare delle cose diverse è come pensare di dover dimagrire senza andare in palestra essendo seduto sul divano a schiacciare il tuo telegomando e a guardare la tv quindi se vuoi creare il business perfetto se vuoi creare quel business ti fa star bene rispondi a queste tre domande e scopri quali sono le risposte quali sono le cose che ti mancano in questo momento che devi avere per forza per realizzare i tuoi sogni ci vediamo nel prossimo video dove ti spiego alcune tipologie di business che ti possono aiutare avere le idee più chiare per la strada che vuoi prendere per sapere quello che ti serve e vivere il tuo sogno nel cassetto realizzare il business perfetto ciao ciao ciao